Vediamo una panoramica delle principali impostazioni del SuperCombi. Innanzitutto, una volta che abbiamo premuto il tasto di accensione dello strumento, ci viene mostrato questo che è il menu generale. Abbiamo questo simbolo con le rotelle, dove abbiamo le impostazioni generali. Andiamo a vederle nel dettaglio. Qui abbiamo la possibilità di selezionare il nostro sistema elettrico, quindi sistema TT, TN o IT, la frequenza di rete a 50-60 Hz, la tensione massima di contatto ammessa, quindi 50-25 Volt, e la tensione nominale del nostro impianto, in questo caso 230 Volt. Una volta selezionati i parametri, confermiamo. Questa seconda icona ci permette di impostare il nome dell'operatore che sta svolgendo i test. Andiamo avanti. In questa schermata è possibile impostare il formato della data dell'ora, europeo o americano, ed impostare appunto data e ora. Confermiamo. Andiamo avanti. In questa icona con il mappamondo possiamo andare a impostare la lingua, in questo caso lingua italiana. Confermiamo. Su questa icona possiamo andare a disabilitare il suono dei tasti e a disabilitare, come ho fatto in questo caso, lo spegnimento automatico dello strumento. Confermiamo. Su quest'altra icona possiamo andare a selezionare l'area di appartenenza, insomma, dove stiamo svolgendo le misure, in maniera tale da utilizzare i parametri appropriati di prova. Confermiamo Europa, perché ci troviamo giustamente in Europa. In questa icona a forma di I possiamo andare a vedere le informazioni sul nostro supercombi, quindi dal numero di serie alle versioni firmware e hardware e alla data dell'ultima calibrazione. In questo caso possiamo andare a vedere le caratteristiche di MP57 e T2100, che sono degli strumenti opzionali che possono lavorare assieme al supercombi. In un caso per effettuare misure di loop ad alta risoluzione, nell'altro caso per effettuare misure di resistenza su dispersori ausiliari senza necessità di scollegamento. E come ultime icona abbiamo quella di HT Analysis. Quindi andando col nostro device a scansionare questo QR code per Android o iOS, possiamo andare a scaricare l'app HT Analysis per gestire i nostri dati. Torniamo indietro. A questo punto andiamo a vedere le funzioni principali dello strumento. Partiamo con la prima prova, che è quella di continuità del conduttore di protezione. Abbiamo la misura di isolamento. Abbiamo la verifica dei differenziali. Abbiamo il test di loop. Abbiamo la verifica della sequenza delle fasi. Abbiamo la verifica delle correnti di dispersione tramite le pinze opzionali. Abbiamo la possibilità di verificare temperature e, tramite una sonda a luxmetro, verificare i valori di illuminazione. Abbiamo la possibilità di verificare valori di analisi di rete su sistemi monofase o trifase bilanciati. Poi, scorrendo sulla seconda pagina, abbiamo la possibilità di andare a fare misure di caduta di tensione sui cavi. E, come ultima cosa, abbiamo la possibilità di eseguire un autotest dove viene eseguito in sequenza una misura di resistenza globale di terra, RCD e isolamento. Una volta che poi sono state effettuate delle misure, possono essere chiaramente salvate premendo il tasto Save e possono essere richiamate a display premendo questa icona che vi ho mostrato. In questo caso la memoria è vuota. E poi abbiamo quest'ultima icona a forma di PC, che è la modalità che ci consente di scaricare i dati dal nostro strumento al nostro PC tramite il software in dotazione Top View. Quindi, una volta che avremmo immagazzinato e eseguito le nostre prove, per scaricare i dati a PC sarà sufficiente porre lo strumento in questa modalità e connettersi al PC. Grazie a tutti.